Beh, ma facciamo il giro in parata Kimi Va bene Se ci prova E si porta all'interno Staccata al limite Partito lontanino Sono in tre Sono in tre In tre 1-4-3 Dabbo, passacursi C'è tutta la pista In seconda posizione In prima posizione Pierre Attenzione Pierre Pierre giro veloce Pierre pole position Attenzione addirittura un Pierre Paddy Potrebbe migliorare In una maniera Si porta in pole position E ora Pierre Paddy Ad risultato Se fosse per il carico del bull Porta Come se fosse vinto il mondiale All'esterno Pierre Paddy Vediamo qui l'incrocio Gabrieo Mallargo Gabrieo Mallargo Costretto all'errore Da Pierre Pampy Ad risultato Attenzione qui 130R 130R Si butta dentro Pierre Pampy E' pazzo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.